Una domenica di Pasqua l'insegna dell'aumento dei controlli, come annunciato in tutto il territorio della provincia Bat. Le forze di polizia in campo, con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi, hanno infatti controllato 1.331 cittadini, 163 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto delle misure governative e per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Un cittadino è stato denunciato per aver dichiarato false attestazioni, oltre ad una denuncia per un altro reato non connesso alla diffusione del virus. Gli esercizi commerciali spezionati sono invece 111. Dall'11 marzo scorso il numero delle persone controllate sale a 45.486, oltre 1.700 le denunce, le persone sanzionate sono invece quasi 2.000. A questi numeri si aggiungono 6 arresti e 75 denunce per altri reati. Gli esercizi commerciali controllati fino ad oggi sono 6.138, con 43 titolari denunciati per violazione delle norme e 40 titolari sanzionati amministrativamente. Entrando nello specifico, a Trani sono stati effettuati oltre 150 controlli tra auto in transito e persone, di cui 9 sanzionate per il mancato rispetto delle norme. Nella domenica di Pasqua, a Tranese è attenzionata in modo particolare la zona di Capirro. Nelle campagne dove sono stati istituiti specifici posti di blocco non si è registrato alcun assembramento. Polizia locale in campo anche a Canosa, con presidi specifici in punti nevralgici della periferia canosina, onde evitare fughe in seconde case. A Barletta, Pasquetta, movimentata per il sindaco Cannito, che ha partecipato alle attività della polizia locale, constatando in prima persona l'affluenza di cittadini in Corso Vittorio Emanuele II. I controlli delle forze di polizia con la collaborazione di quelle locali ed il coordinamento della prefettura proseguiranno rigorosamente. Anche a Bari, nel capoluogo barese, controlli intensificati. Sin dalle prime ore dell'alba del giorno di Pasqua, gli agenti di polizia hanno messo al setaccio le vie della città, utilizzando anche elicotteri e droni, supportando così le attività di controllo a terra.